Attenzione, questo video potrebbe urtare la vostra sensibilità. Very ignorant people. Let's go, bastardi. Non ci posso credere, ma chi sono questi? Ma chi sono questi? Ma non ci posso credere. Alla macchina. E lui non è lui. Certo che è lui, Supergamba! Noi, noi. Non vieni! Un uomo poteva a fuoco, non? Il ritaglio e il ritaglio. Scusi! Vai Mico! Qua bisogna stare un po' più impennata! Oh si! Vai Mico! Un po' di là! Ora la faccia la fai Mica! Vai Mico! Un po' più! Oh! Vai Vai Vai! Giappastardo il carro! Giappastardo! Eeeh! Runco! No! Ma che mi paghi per un volo di giusto? Ma che mi paghi per un volo di giusto? Ce lo do! Eeeh! 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 Eeeh? Eeeh? Ritetti la frase famosa signora? Scusi? Si fida di noi! Mi fida di noi! Contento parlando, soprattutto con te! Signorina! E noi! Quello che sta fumando! A few moments later! Aleeeeeee! I know you like that Siamo qui, Ritetti Qual è la cosa che ha problemi? Facciamo un trucco piano Per la prima cosa, nella storia di... E' un macchia donato E' un apposto? E' un apposto? E' un apposto? Vai, mica! E' un apposto! 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 Ma cosa succede Angelo? Cos'è si fa? Vai passa di sopra Ale Gusti Grazie Gusti Per far andare bene Elisa devi farvi vedere un culo Vai Elisa Ale E Mirko c'è Mirko c'è Vai Mitico Mitico Bene 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 Vieni COBRE Ecco Vai 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 vai, questa è in penna, occhio! lo sapevo! più, di più! vai baby! sono 5 euro per il biglietto ragazzi, ho scoppiato la coppia con il biglietto lo vedete? scossa via! scossa via, vada in retro, satana! scossa via! scossa via! abbiamo trovato la moto adatta a te guarda, con questa tocchi sicuro anche con le ginocchia! guarda, 4 piedi! stiamo toccando qui le orecchie da coniglio che sono spuntate a costa per vedere le orecchie da coniglio tu sei perdonata ma comunque un paio di orecchie da coniglio ci sono anche per te però vabbè, la mia caretella le orecchie da coniglio attaccati a sto coniglio attaccati a sto coniglio attaccati a sto coniglio attaccati a sto coniglio che si fa? Mirko c'è, Mirko c'è Mirko c'è questa è la parte guarda questo è il campo e ce l'ho perso madonna mia guarda che sono intorno seguite angelo una garantina angelo una garantina come si guarda come? come? come?! come? il domicopper il domicopper il domicopper sono i migliori quasi c'era Ale hai salvato le Alla prossima avventura, ignoranti. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. Vorresti diventare ignorante ma non sai da dove iniziare? Visita il nostro shop.